Cinque agenti della polizia locale di Napoli sono stati accerchiati e aggrediti da alcune decine di migranti durante un controllo contro i mercatini abusivi nei pressi di Piazza Garibaldi, zona stazione ferroviaria centrale. Gli agenti stavano seguendo un sequestro nei confronti di una nigeriana che vendeva cibo da asporto senza autorizzazione. La donna ha dato in escandescenze ed è accorso un gran numero di migranti che ha circondato e malmenato i vigili. Tutto ha avuto inizio in via Bologna, intorno alle 20.45, con i controlli degli agenti dell'unità operativa di San Lorenzo. Il bilancio di questi nove mesi di amministrazione Manfredi è sicuramente negativo, a dirlo Eccatello Maresca, consigliere comunale di opposizione, ma a denunciare il degrado e i gravi episodi in Piazza Garibaldi sono soprattutto i residenti Adelaide Dario, presidente del comitato del quartiere Vasto, e da anni che porta avanti la sua battaglia. Noi sono anni come comitato che ci battiamo per questa situazione, per vivere nella legalità e soprattutto in un quartiere più decoroso. Insieme ad Andrea Cristiani, altra persona del comitato, abbiamo chiesto più volte che la polizia municipale, perché ad oggi è l'unica ad essere presente sul territorio, visto che hanno le pistole ma non possono usarle, quindi perché non dare taser a queste persone, a questi ragazzi, e affinché questo quartiere e questa zona possa diventare non il degrado della città, ma bensì la porta bella della città, perché Napoli è una città meravigliosa e noi residenti abbiamo il diritto di viverla.